In questa prima parte voglio riprendere in mano i fondamenti del podcasting, quelli che sono veramente i fondamenti del podcasting e che oggi sono stati in gran parte dimenticati. Perché? Perché il podcasting è sorto nel 2005, ha avuto una sua evoluzione eccetera eccetera ma il vero boom del podcasting avviene a partire dal 2014-2015 con una serie di podcast crime che hanno molto successo negli Stati Uniti e che vengono rapidamente diffusi, anche tradotti eccetera, i format vengono copiati e insomma questo media ha una diffusione eccezionale a partire da quegli anni. Quindi è come se ci fosse stata una sorta di interruzione della memoria. Spieghiamo questo. Che cos'è il podcasting? Il podcasting è un sistema chiaramente di distribuzione, audio d'accordo, vediamo. Ma come viene sviluppato? Prima di tutto bisogna studiare un format e un clock e va bene, cioè il modo attraverso il quale la trasmissione, i contenuti vengono portati al pubblico. Quindi se si tratta di una trasmissione talk, di documentari, di interviste, storie eccetera eccetera. Per fare questo, cioè dopo aver stabilito il format e il clock, chiaramente bisogna pensare al setup e quindi a quali microfoni, come, uno studio, non uno studio, un computer, dove, quando eccetera. Il setup viene dopo il format e il clock, ovviamente, perché se io stabilisco che il mio podcast è itinerante, è ovvio che non posso pensare di registrarlo in uno studio. Quindi queste due cose, diciamo, sono alla base di qualsiasi podcast fino al momento della registrazione. Naturalmente il momento della registrazione può avere diversi, diverse forme, chiaramente, può esserci il podcaster da solo davanti al suo computer, possiamo essere in studio, possiamo essere all'aperto, possiamo essere invitati da qualche parte eccetera eccetera. Comunque avviene una registrazione audio. Allora, fin qui, penso che siamo tutti d'accordo. Organizzazione, progettazione, registrazione. Otteniamo un file, otteniamo un documento, un documento audio, normalmente MP3, perché, diciamo, è lo standard diffuso che tutte le piattaforme accettano eccetera eccetera. Questo file, questo contenuto audio, non è un podcast. Cioè, noi abbiamo compiuto lo step 1, lo step 2, lo step 3. Non siamo ancora all'interno di un podcast. Non abbiamo fatto un podcast. Quando questo documento audio diventa un podcast? Quando viene inserito all'interno di un feed RSS e distribuito tramite questo feed. Il feed RSS è questo. È un file di testo scritto in linguaggio XML e viene distribuito in un determinato modo che adesso vedremo. Questo è un podcast. Tutto il resto non è un podcast. Adesso vi voglio mostrare, voglio insistere su questo punto perché qui abbiamo un problema. Abbiamo un grande problema. Ve lo anticipo subito il problema qual è. Il problema è che grandi multinazionali e attori del podcasting oggi esprimono l'orientamento di sopprimere il feed RSS. E vi dico già che cosa significa questo. Significa la fine della libertà di podcasting. Significa la fine dell'unico medio veramente libero e alla portata di tutti, anche oggi esistente. Con delle implicazioni straordinarie. Ma su questo aspetto ci ritorniamo un momento. Perché? Per farvi comprendere bene che cosa significa il fatto che il podcast è un feed RSS e non un documento audio. Vediamo. Questo è un podcast. Si trova casualmente su una pagina web. Si trova casualmente su una pagina web. Perché? E qui arriva il secondo fondamento importante che riguarda il podcasting. Casualmente perché il podcasting non ha bisogno di una pagina web. Anzi, vi dirò di più. È stato creato nel 2004 da Adam Carrey proprio per evitare di navigare attraverso pagine web. Per comodità viene visualizzato attraverso una pagina web, ma presenta che cosa? Presenta un pulsante che dice copia feed RSS. Perfetto. Io faccio clic su questo pulsante e ho copiato. Ho copiato un file. Un file con estensione XML che è di questo genere. Allora, qui abbiamo la pagina web, cioè è la rappresentazione grafica di quello che c'è scritto qui. Che però non è HTML, ma XML. Lo vedete qua? La dichiarazione iniziale, cioè la dichiarazione del linguaggio sul quale ci si basa, è XML, non HTML. Sono due cose radicalmente differenti, anche se possono assomigliarsi un po' e anche se l'XML è parte integrante, in un certo senso, dell'HTML. E non so, delle strutture, per esempio, con le quali i grafici realizzano i template per i siti web. Ma sono due cose diverse. Perché sono due cose diverse? Perché a me basta prendere questo testo, guardate, che poi si conclude qua, vedete, fine RSS, qui inizia RSS, qui fine RSS. A me basta prendere questo oggetto che ha un nome, come quando voi create un file di Word. No, ha creato un documento che chiamate, non lo so, ricetta del pollo fritto. E il nome del documento sarà ricettapollofritto.doc o punto quello che è PDF, eccetera. Va bene? Il nome di questo file è questo, è HTTP, eccetera, media, bla bla bla, Your Podcasting, perché è il nome del podcast, feed.xml. Quindi, se voi fate click su questo file che trovate sul vostro computer, perché l'avete scaricato, dovete avere un'applicazione che ve lo legga, che ve lo mostri così. Esattamente come quando fate click su un PDF, ci sarà un'anteprima che ve lo mostra, piuttosto che Acrobat, oppure Word, o un'altra applicazione, se si tratta di un file di testo. Che cosa faccio di questo file? Ma lo colloco all'interno di uno spazio FTP. FTP, cioè, diciamo, per semplificare, che si tratta di una stanza. Di una stanza all'interno della rete internet, che non è organizzata per vedere gli oggetti in modo grafico, cioè così, con le immagini, cose, eccetera, ma che è semplicemente un deposito. Un deposito di documenti, di file, eccetera, eccetera. E allora uno dice, perfetto, e che come faccio, però, poi a leggere questo file, cioè a tradurre questo file in un oggetto multimediale? Bene, succede questo. Torniamo sempre al nostro podcast. Abbiamo visto che qui c'è il pulsantino CopiaFeed RSS, ma qui c'è un altro pulsantino che dice, ascolta su. Vediamo. Ah, ascolta su, e mi dice, ascoltalo su Apple Podcast, ascoltalo su Spotify, ascoltalo su Podcast Index, Amazon Music. Avrei potuto inserirne tanti altri, ma diciamo, che ci dice che questo podcast può essere ascoltato su diverse piattaforme. Queste piattaforme si chiamano aggregator. Non sono, sono delle applicazioni, certamente perché sono applicazioni informatiche, ma sono delle applicazioni differenti da tutte le applicazioni che voi conoscete. Sono degli aggregator, cioè sono delle applicazioni che servono per interpretare questo linguaggio. L'interpretazione di questo linguaggio si chiama parsing, quindi queste applicazioni fanno il parsing di questo linguaggio e poi ti rappresentano il podcast in un certo modo. Per esempio, se facciamo clic su ascolta su Spotify, vediamo che cosa succede. Abbiamo il podcast in Spotify, che è un aggregator. Bene, facciamo clic su Apple Podcast, vediamo che cosa succede. Abbiamo una rappresentazione grafica differente, ma abbiamo tutti i contenuti con le descrizioni e i titoli. Poi facciamo però una cosa diversa. Copiamo il feed RSS. Abbiamo visto che abbiamo aperto, per esempio, Apple Podcast. Nel menu file di Apple Podcast, vedete, menu file qui in alto a sinistra, scendo, segui un podcast tramite URL, incollo l'indirizzo del feed, lo incollo, perché l'ho collocato da qualche parte, quindi da qualche parte risiede, questo è l'indirizzo dove risiede, e gli dico di seguire questo feed. Quindi, che cosa abbiamo capito da questa faccenda? Il podcast, tecnicamente, risiede attraverso il suo feed da qualche parte, in uno spazio, in una stanza, diciamo così, all'interno della rete, che conterrà altri materiali, altre cose, eccetera, ha un suo indirizzo, e poi ci sono delle applicazioni che mi consentono di visualizzare e di ascoltare, ovviamente, questo podcast, perché fanno il parsing di questo documento. Come vi ho mostrato, se io copio l'indirizzo, posso aprire una qualsiasi applicazione, che sia un aggregator di feed RSS, come avete visto fare con Apple Podcast, inserisco il feed e praticamente l'applicazione lo mostra e lo fa vedere. Che cosa discende da questo? Discende il fatto che Apple Podcast, esattamente come Spotify, come Audible, come un sacco di altri aggregator di podcast, hanno i loro podcast interni. Cioè, io mi sono abbonato al podcast, per esempio, dicendo, ascolta su, perfetto, perché questo podcast è stato registrato all'interno di Apple Podcast, quindi esiste. Un ascoltatore che vuole fare un giro nei podcast, va bene, guarda, vede un po' le classifiche, scopri, eccetera, eccetera, può imbattersi anche in questo podcast. Perché? Perché lo abbiamo registrato all'interno. Quando l'abbiamo creato, lo abbiamo registrato. Ma altrimenti, l'ascoltatore può ricavare il feed RSS, semplicemente perché qualcuno glielo passa, o perché lo trova in internet, poi sceglie l'applicazione di riferimento, quella che gli piace di più, e lo ascolta da quella applicazione. Adesso, attenzione, attenzione, è quello che vedrete in questo momento. Perché io apro Spotify. Abbiamo, ah, lo vedete, tra l'altro abbiamo Rubino Lapislazuli dentro Spotify, perché è stato registrato in Spotify. Perfetto. Vado nel menu file di Spotify e non trovo niente per inserire il feed. Modifica? Niente. Visualizza? Niente. Riproduzione? Niente. Finestra? Niente. Assistenza? Niente. Cioè, Spotify è un aggregator di feed RSS, ma non consente di inserire liberamente un feed RSS all'interno di questa applicazione per rintracciare i file. Quindi, o tu, dentro Spotify, hai registrato anche il podcasting, qui da qualche parte c'è, perché l'abbiamo registrato, eccolo qua, oppure tu non lo vedi con il feed RSS. Dunque, questo significa che abbiamo due orientamenti diversi. Abbiamo un aggregator, che abbiamo visto, quello di Apple Podcast, che consente di recuperare un feed e di usare liberamente quell'applicazione per seguire tutti i podcast che si vuole, anche quelli sconosciuti che vengono chissà da dove, magari fatti da piccoli gruppetti di persone, però di grandissimo interesse e curiosità, e poi abbiamo invece altre aziende, diciamo così, altre, un'altra filosofia che ti dice, no, i podcast sono quelli che sono registrati all'interno della mia applicazione. La seconda strada, quella che vi ho mostrato, è quella che tende alla liquidazione del feed RSS. Ma io vi faccio un esempio drastico, drammatico. Siamo all'interno di un paese retto da una dittatura che blocca le comunicazioni mediatiche. Beh, può bloccare le comunicazioni mediatiche, benissimo, ma io posso scrivere un feed così e posso collocarlo in uno spazio FTP qualsiasi e posso mantenere il mio diritto di parola con delle difficoltà, certo avrà la polizia del regime alle costole, sicuramente, ma se io faccio questo, questo viene cancellato, non lo posso neanche fare. Questo invece non richiede, non richiede delle conoscenze particolari tranne che imparare un linguaggio che non è complicato, non è assolutamente complicato. Questo è la libertà di comunicazione. Chiunque può creare un podcast perché un podcast è un testo scritto così, collocato in uno spazio FTP letto da un aggregator e guardate che gli aggregator non sono solo Apple Podcast, Audible e Spotify, ce ne è 50.000. Questa è la questione di fondo che oggi viene dibattuta e viene dibattuta nella comunità dei podcaster, specialmente statunitensi, che sono molto sensibili allo sviluppo di questa tecnologia. Adam Carrey, che è quello che ha inventato il podcasting, l'ha inventato lui, lui ha creato la prima applicazione, il primo aggregator che faceva il parsing, di questo esisteva il linguaggio XML, lui l'ha solo modificato affinché si potesse produrre un podcast. Adam Carrey oggi è uno dei leader che guida questa questa protesta, questa filosofia, nei confronti di uno strumento che è uno strumento estremamente democratico alla portata di tutti e che invece per vari interessi tende a essere liquidato. Vi faccio vedere un'altra cosa particolarmente stupefacente che è questa. Io qui digito RAI Podcast. I podcast di Radio RAI. Perfetto. Dove andiamo? In un sito, un classico sito web. È il sito web della RAI, ovviamente. E qui abbiamo tutta una serie di tutto il calcio minuto per minuto, su blu, eccetera, eccetera. Prendiamo in uno qualsiasi, non so, io ho tutto il calcio minuto per minuto. Vediamo, ascolta la diretta, va bene, tutto quello che vuoi. Guardate, c'è il titolo, c'è la descrizione, c'è il play, va bene, facciamo il play, tutto quello che volete, qua il play, ok, ma non c'è il feed RSS. Non c'è il feed RSS. Allora, in primo luogo, questo non è un podcast, perché se non c'è un feed RSS, non è un podcast, perché le fonti, le fonti storiche, ci dicono che podcast è una definizione, è un termine preciso, che è stato definito nel novembre del 2004 da un altro tizio americano che si chiama Doc Searle e che significa, lui ha detto che significa, perché è lui che l'ha creato, questo termine, è personal option digital casting. Quindi Adam Cari crea il feed RSS, Doc Searle propone un nome, questo nome è adottato dalla comunità dei podcaster, dunque abbiamo un risotto di riso alla milanese che si fa con lo zafferano, tu non ci metti lo zafferano, non è un risotto alla milanese. Abbiamo una pasta alla matriciana, tu non metti il guanciale, non è una pasta alla matriciana. Chiamalo come cavolo vuoi, ma non è una pasta alla matriciana. Quindi, il podcasting non è un file audio su una pagina web. ci sono alcune di queste creazioni della Rai, alcune di queste creazioni che sono in Spotify. Io non so che accordi abbiano preso Spotify, la Rai, cioè Spotify è una grossa multinazionale, è una multinazionale che sta cercando di occupare tutto il terreno del podcasting, tutto il terreno del podcasting vuole diventare quello che YouTube è per i video, ha investito, pensate, un miliardo e mezzo di dollari per farsi strada nel mondo del podcasting, comprare podcast in esclusiva all'interno di Spotify. Quindi è un'operazione, un'operazione, come dire, globalizzante che cerca di fare su un media libero che è sorto per affermare la libertà di comunicazione sulla base di che cosa era sorto? Sulla base della radiofonia libera, delle radio libere degli anni 70. Poi le radio libere sono state soppresse perché l'etere è stato messo in vendita in tutti i paesi. Oggi è impossibile aprire una radio a meno che non si abbia un capitale e si possa acquistare una frequenza. Adam Carrey inventando il podcasting aveva, come dire, bypassato questa problematica per cui si utilizzava la rete per distribuire delle trasmissioni sul modello di trasmissioni radiofoniche e il modello è esattamente quello anche nei format eccetera. Oggi ci troviamo non solo Spotify Earth Radio per esempio. Earth Radio è quella che ha acquistato Spreaker. Spreaker sta facendo delle politiche analoghe. È compatibile con i feed da RSS li potete ancora recuperare potete ancora utilizzarli ma diciamo c'è una tendenza che ormai sta marciando in questa direzione. Attenzione a questo. A chi appartengono i diritti? Un fornitore di servizi di podcast per esempio ha dichiarato nei propri termini di servizio che utilizzando la propria piattaforma quindi la piattaforma di distribuzione di un podcast si concede il diritto di copiare distribuire modificare pubblicare utilizzare ed elaborare i contenuti senza alcun ulteriore avviso consenso o compenso cioè detto in altri termini voi pubblicate un podcast lo veicolate attraverso una piattaforma detenete i diritti del podcast solo da un punto di vista formale perché l'utilizzo di quella piattaforma fa sì che quella piattaforma possa stabilire un accordo che ne so con la Coca-Cola e schiaffarvi dentro la pubblicità della Coca-Cola per dire oppure addirittura possa vendere i contenuti del vostro podcast alla Coca-Cola senza che a voi arrivi un centesimo è difficile che si verifichi una cosa di questo genere stiamo parlando di numeri molto importanti però quello che qui ci interessa è una tendenza è una tendenza reale e nessun autore può pensare di podcast di libri di dipinti di sculture di quello che si vuole può pensare di non essere completamente proprietario dell'opera che ha creato cioè stiamo scherzando solo perché tu la distribuisci ma poi che cosa vuol dire distribuire beh adesso vi faccio vedere questa cosa qua questo è questo è Spotify io ho registrato il podcast dentro Spotify questi sono due miei podcast giusto? li vedete? sono due podcast sono all'interno di Spotify quindi li ho registrati all'interno di Spotify che cosa ho dato a Spotify per registrare questi podcast? beh è semplice torniamo a RSS qual era? per esempio questo Rubino Lapislazzuli creato attraverso RSS poi guardate canale di distribuzione vedete questa sezione canale di distribuzione faccio click e RSS chiede dove vuoi che io distribuisca il tuo podcast il tuo podcast che sarebbe diamanti letterari che all'interno di RSS spero che questo sia chiaro cioè io ho costruito il podcast dentro questa piattaforma quindi è lì che risiede mi chiede adesso dove lo vuoi distribuire e io gli dico distribuiscelo dappertutto Spotify Amazon Samsung più queste sono le distribuzioni automatiche più distribuzioni manuali perché devo fare due operazioni manuali ma arriva in tutti quanti i canali perfino in YouTube dovunque va bene? ok torniamo a Spotify che cosa ha fatto RSS con Spotify affinché il podcast apparisse come un podcast all'interno di Spotify? vi faccio una domanda vediamo che cosa rispondete RSS ha consegnato i file mp3 delle cinque puntate dei cinque episodi di questo podcast a Spotify? cioè gliele ha dati fisicamente edo guarda questi sono i file mp3 di Alberto Pian la risposta è sì o no? no non ha dato dove risiedono i contenuti multimediali? i contenuti multimediali risiedono dentro RSS cioè RSS fa da hosting fa da quella cosa vi ricordate che vi ho detto FTP depositiamo lì i file multimediali gli mp3 questo fa RSS fa questo la domanda è chi paga le connessioni al mio podcast mettiamo che domani abbia un successo pazzesco un milione di ascoltatori per un file di 10 megabyte fa 10 milioni di megabyte cioè comincia a diventare una cosa grossa i costi di connessione ammonteranno qualche centinaio di euro sicuramente per un ascolto giornaliero chi li paga? li paga RSS perché qui sono i file d'accordo? che cosa paga Spotify? zero Apple Podcast che costi ha? zero all'interno di RSS perché è lui che deposita cioè che mantiene che conserva i file multimediali quindi è lui che paga l'hosting ecco perché e questo l'ho anche scritto nel mio libro a chiare lettere ecco perché quando noi creiamo dei contenuti li distribuiamo e questo non vale solo per il podcasting evitiamo servizi gratuiti a chiare lettere ecco perché questo servizio paga l'hosting e quando il servizio è gratuito il prodotto sei tu quindi che cosa vuol dire? vuol dire che se tu ti avvali di un servizio gratuito ah bello questo gratuito eccetera certo ma come la banda comincia ad aumentare loro la riducono le persone hanno più difficoltà ad ascoltare il tuo podcast a rintracciarlo perché tu cresci cresci in un servizio gratuito e quindi ti metteranno nella condizione di pagarlo ma se sono creati per fare un business a loro interessa che il vostro contenuto in qualche modo generi capitale generi generi guadagno generi ricavo per i gestori del servizio stesso mica per voi e allora ecco che il problema di chi appartengono i diritti come questa testimonianza incredibile quindi uno che si ma le testimonianze sono tante ce ne sono tantissime per esempio le limitazioni commerciali loro vi riconoscono la proprietà intellettuale e per forza chi la può disconoscere tutti i paesi del mondo praticamente cioè ci sono leggi in cui riconoscono le proprietà intellettuali di qualsiasi autore ma la proprietà commerciale se l'attribuiscono quindi si arriva al paradosso che voi create un prodotto ma chi guadagna è il servizio di podcasting che magari ve l'ho offerto pure gratuitamente insomma sono tu adesso io non voglio andare oltre questa questione ma torniamo al nostro sistema vi ricordate eravamo rimasti qui quindi creiamo il feeder ss in linguaggio xml benissimo siccome non lo sappiamo fare siccome non lo sappiamo fare che cosa succede che ci indirizziamo a una piattaforma eccola qua ci indirizziamo una piattaforma e a questa piattaforma diremo crea un nuovo podcast nuovo podcast perfetto titolo descrizione il nome va bene dell'autore i diritti autori di chi sono il successivo le categorie prendiamo la prima che capita andiamo avanti inizia ecco che abbiamo il podcast bene adesso inseriamo gli episodi nuovo episodio di nuovo titolo note sull'episodio numero stagione e così via cioè che cosa stiamo facendo noi stiamo compilando esattamente questo documento questo solo che siccome non lo sappiamo fare a mano rss spotify apple podcast che ne so amazon music eccetera ci mettono a disposizione un si chiama front end cioè qualche cosa che sta davanti un modulo come i moduli di google noi compiliamo quei campi e pensa all'applicazione a creare a creare questo file e poi una volta che ha creato che ha creato il feed eccetera guardate avete file audio carichi il file audio lo vai a pescare questo file audio lo carichi e la piattaforma deposita il file audio in uno suo spazio ftp che non ti deve andare a cercare tu quindi i servizi di hosting li fornisce la piattaforma che hai scelto allora torniamo un attimo al feed questo così con questa spiegazione penso di avervi detto tutto su questa parte e siccome vi ho già parlato un po' anche di rss poi mi basta farvi vedere alcune funzioni molto interessanti e spiegarvi una cosa in particolare guardate rss abbiamo la dichiarazione del linguaggio va bene poi qui abbiamo il primo tag importante che è una categoria si chiama channel che cos'è il channel beh è semplice perché se voi scorrete guardate avete il channel va bene c'è title poi alberto pianna poi abbiamo atom link ricordatevi questa cosa atom perché vi spiegherò poi una vi faccio vedere una cosa interessantissima su questo aspetto dice dove è collocato il feed xml poi va avanti l'immagine di copertina poi troverete punto mp3 cioè dove è collegato il file mp3 perché andando avanti trovate poi degli item separati quindi questo è un item e questo qui finisce qui comincia un item qui finisce un item qui comincia un altro item e qui finisce e cosa contengono questi item vedete che sono proprio dei contenitori perché iniziano perché iniziano e finiscono allora guardiamo vediamo un po' il podcasting è la storia della rete una rivoluzione di valori ideali questo è un title vedete title vediamo 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 il podcasting è la storia della rete una rivoluzione di valori ideali fantastico questo vuol dire che questo item riguarda un episodio vediamo se è vero perché nel 1990 cambiano i protocolli comunicazione a rete come si comunica eccetera vediamo qua perché nel 1990 cambiano i protocolli quindi è proprio questo c'è la data di pubblicazione c'è tutto quindi vuol dire che questo linguaggio è strutturato in questo modo il channel è il podcast cioè quello che caratterizza l'insieme di tutte le trasmissioni poi ciascun item identifica una specifica trasmissione e infatti eccolo qua title poi c'è il subtitle cos'è no? la description l'enclosure l'enclosure che sarà il file mp3 eccolo qua dov'è questo file? è qui è in un posto che si chiama media.rss.com cioè è in un posto di proprietà di rss.com che gentilmente ospita questo mp3 poi guardate cosa c'è qua abbiamo iTunes duration poi iTunes episode type iTunes season perché questa è la prima stagione prima abbiamo visto Atom adesso abbiamo visto iTunes e già sapete perché? perché qui è una cosa pazzesca vale a dire udite udite questo linguaggio XML è composto al suo interno da diversi tag che sono questi questi tag possono riferirsi a dei codici linguistici stabiliti da dei consorzi degli standard diciamo così differenti si chiamano Atom si chiamano tag di iTunes si chiamano per esempio Dublin Core il Dublin Core per esempio è un sistema di tag che viene adottato nelle università di tutto il mondo perché così possono parlarsi meglio condividere meglio delle loro risorse quindi di che cosa vi sto parlando? vi sto parlando di una struttura aperta cioè se io qui adesso mi invento un tag no? qui vado a capo mi invento un tag il tag è aperta questa freccetta Alberto Pian poi due punti non lo so mi invento una cosa poi qui chiudo va bene io ho inserito un nuovo tag di mia invenzione all'interno di una struttura XML esattamente come iTunes nel 2004-2005 ha inserito una serie di suoi tag cioè questi sono è Apple in pratica esattamente come Atom ha studiato un suo linguaggio di markup e l'ha inserito dentro il feed che aveva inventato Adam Curry quindi questo feed è un feed sempre aperto all'innovazione Paolo Riva che è il mio amico il titolare di Sedicinone la casa di produzione di cui vi parlavo prima per esempio potrebbe decidere che inserisce una serie di tag speciali con le quali diciamo l'utente compie una serie di operazioni fantastiche lo può fare ma questo non invalida tutto quanto no perché sentite il bello della faccenda abbiamo detto che RSS spedisce questo feed a Spotify manda questo feed ad Apple Podcast lo manda a Audible e questo feed contiene incredibilmente dei nuovi tag dei nuovi linguaggi sapete che cosa succede? niente succede che Spotify Audible eccetera non conoscendo questa riga la saltano quando l'applicazione fa il parsing salta questa riga non è come un'applicazione per esempio informatica tradizionale sul vostro iPhone sul vostro smartphone eccetera dove se qui c'è un baco diventa un casino e si può chiudere l'applicazione no se c'è una riga di codice che non viene riconosciuta salta tutto no no perché questo è un linguaggio a marcatura quindi se io non conosco che cosa vuol dire questo lo salto ma questa è un'implicazione incredibile che Adam Carri e non solo lui perché fa proprio parte del linguaggio XML ha introdotto nel 2004 e che significa questo significa che appunto Paolo Riva non so Franca Balletti che vedo qui davanti Giussi eccetera inventano i loro linguaggi vogliono arricchire il sistema di podcasting e inventano dei sistemi per cui non so dentro il podcast viene visualizzato anche un video per dire oppure dei quiz oppure quello che si vuole e inventano i loro tag succede questo succede che un'applicazione un reader su tutti dice ah caspita è interessante questo tag lo implemento anch'io chiama i suoi sviluppatori e dice oi sviluppatori guardate qua che c'è un nuovo tag si chiama Podca oppure Alberto Piano Paolo Riva eccetera eccetera lo inseriamo certo subito programmano l'applicazione l'aggregator in modo tale che legga interpreti questa cosa inizia a farlo uno inizia a farlo un altro magari piccoli poi inizia a farlo uno grande Apple decide di inserire questa novità all'interno del suo aggregator in un certo periodo di tempo questa innovazione diventa comune e automaticamente tutte le applicazioni per non rimanere indietro la riproducono cioè c'è un riconoscimento sociale dell'innovazione dell'utilità dell'innovazione ma se io come l'ex dirigente di Anchor che quella società che poi è stata acquistata da Spotify dice che tutto questo sistema deve essere abolito io non ho più l'innovazione io ho una società che impone le sue regole a tutto il mercato non ho più l'innovazione perché la praticità di questo codice consiste esattamente nel fatto che io posso scrivere quello che voglio lì dentro e non si blocca il podcast casomai nessuno prenderà in considerazione l'innovazione che ho realizzato io infatti qual è la prova di questa cosa beh la prova di questa cosa è che un mese fa Apple ha inserito la compatibilità dei podcast cioè ha accettato la trascrizione del podcast quindi queste trascrizioni sono visibili anche attraverso Apple Podcast e questa è un'innovazione di podcast 2.0 è un'innovazione che è partita dagli Stati Uniti che ha trovato diverse affermazioni e che adesso si sta diffondendo una volta che l'episodio è stato creato appaiono in RSS nel servizio di RSS appaiono queste icone guardate trascrizione questa è l'icona della trascrizione clicca qui e ho un campo di testo che mi riporta un testo che testo è? questo è un testo che io semplicemente ho copiato e incollato quindi prima era vuoto prima era così elimina trascrizione togliamolo elimina trascrizione perfetto poi voglio attivare la trascrizione faccio clic su questo pulsante e ho due opzioni trascrizione automatica quindi gli dico continua poi che trascrizione voglio media alta eccetera eccetera e che cosa succederà succederà che RSS ascolta la trasmissione e realizza la trascrizione automatica e la inserisce dentro un campo di testo questa è un'opzione buona interessante però io ne ho un'altra migliore scelgo l'inserimento manuale e scegliendo l'inserimento manuale guardate cosa succede continua quindi io mi sono preparato il testo e lo incollo qua quindi la nascita del podcasting Alberto Piano ci metto anche un link cose eccetera quindi aggiungi trascrizione adesso vediamo che cosa succede quando visualizzerò questa trasmissione quindi faccio clic sull'episodio e presenta una scheda nella quale c'è scritto proprio trascrizione infatti è la scheda della trascrizione questa è una cosa recente che un po' è stata recuperata dai fondamenti del podcasting quando c'erano dei podcast che si chiamavano aumentati consideravano e consentivano di fare una serie di cose beh recentemente è stata riscoperta questa cosa e adesso si sta diffondendo si sta diffondendo per cui effettivamente abbiamo a disposizione anche un campo di testo che in questo caso riporta la trascrizione della trasmissione ma in realtà io potrei inserire qui una bibliografia cioè indicazioni su fonti link oppure approfondimenti eccetera eccetera e questo è possibile perché perché nel feed rss che avete visto prima è stato inserito e accettato dalla comunità da tutta la comunità ormai il tag della trascrizione all'interno di un campo di testo di aggregato che non sono compatibili non è che bloccano questo podcast no io continuerò ad ascoltarlo semplicemente non avrò la possibilità di vedere questo testo dunque il podcast con il suo feed rss in linguaggio aperto xml è uno straordinario media non solo democratico ma addirittura orientato a un'innovazione stabilita dallo stesso gradimento della collettività cioè degli ascoltatori guardate che è un fatto unico nel sistema odierno della comunicazione di massa dove tutto è deciso a tavolino dove i proprietari dei canali di distribuzione sono grandi network multinazionali che hanno i loro interessi i loro business questo è un fatto unico è un fatto eccezionale di grande portata ma non finiamo qui nella sezione capitoli ho la possibilità addirittura di suddividere questo podcast in capitoli di ascolto questo voi per esempio lo vedete nei filmati di youtube però per il podcasting non era scontata questa cosa questo fa parte del sistema di podcasting 2.0 che è stato riconosciuto dalla comunità dei podcaster e degli aggregator delle varie piattaforme come una qualità importante quindi guardate che cosa succede capitolo posso indicare il punto di inizio il punto di fine per esempio questo capitolo dura circa un minuto parte da 0.21 secondi arriva a 1.31 quindi dura un minuto e 10 secondi attribuisco un titolo a questo capitolo e cioè ad ancare Doc Searle il podcasting inserisco addirittura un link e guardate guardate il link porta alla mia vendita di libri sul podcasting mi faccio un po' di pubblicità posso inserire qualsiasi tipo di link e poi un'immagine e qui abbiamo due capitoli addirittura se no posso inserirne anche tre quattro cinque quelli che voglio perché basta selezionare la possibilità di aggiungere un nuovo capitolo e di nuovo qui abbiamo un titolo un tempo che viene stabilito un time preciso e una immagine vediamo che cosa succede quando si ascolta questo podcast che ha delle immagini quindi noi ascoltiamo un podcast con delle immagini interessante questa cosa signore e signori ladies and gentlemen la nascere podcast quindi lo porto a tutto schermo ecco vedete è come avere una presentazione di contenuti a tutti gli effetti anche visiva trasmessa attraverso di contenuti audio c'è un'altra cosa che vi volevo anche mostrare che è questa e cioè sono all'interno della mia del mio podcast e e ho sempre in la nascita del podcasting ho quest'altra icona che si chiama sound beat oh bella che cos'è il sound beat il sound beat è una cosa molto curiosa perché il sound beat è una sottotrasmissione dell'episodio che è stato creato quindi questo episodio avrà una durata di non so cinque minuti quello che è ma sono stati creati un po' come nei capitoli sono stati creati dei presi dei frammenti di questa trasmissione che hanno un inizio una fine qui da 0.23 secondi a 0.48 però si tratta di frammenti audio non ci sono immagini mentre nei capitoli avevamo a che fare con le immagini qui invece il sound beat mi consente di prendere solo delle parti delle parti significative magari di questa trasmissione e metterle tutte insieme per fare che cosa per fare una cosa che adesso vi faccio vedere perché è veramente curiosa eccolo qua la nascita del podcasting guardate abbiamo la trascrizione abbiamo i capitoli vedete poi abbiamo i sound beat eccoli qua i sound beat i sound beat è una innovazione del podcasting 2.0 che rss.com ha integrato ma non ha ancora portato a termine infatti qui dovrebbe esserci un pulsantino di play per ascoltare proprio quella parte lì o addirittura ci dovrebbe essere un altro file che mette insieme questi due frammenti in pratica è un sistema semi-automatico per creare i trailer della tua trasmissione però siccome questa è un'innovazione in corso una delle ultimissime innovazioni in corso che cosa ha fatto rss sta cominciando a introdurla e sta anche guardando con gli altri operatori che cosa succede cioè se la gente lo utilizzo o meno per poi poterla implementare davvero e portare avanti effettivamente quindi succederà questo quando hai creato il podcast nelle impostazioni se scendi sotto scendete sotto avete le funzionalità di podcast 2.0 tra queste funzionalità c'è il soundbit voi potete decidere di attivarlo o disattivarlo quindi non sono attive di default perché perché rss ma non solo lui anche altre anche altre applicazioni stanno semplicemente chiedendo agli utenti che cosa fare di questa cosa e sicuramente sicuramente io penso che è molto interessante questa questa opportunità nel giro di qualche mese potrebbe diffondersi quindi implementarsi e potremmo avere realmente il nostro soundbit allo stesso modo ci sono altre innovazioni in corso il TXT che è un sistema è un tag che definisce un sistema di protezione del podcast per evitare di essere copiato eccetera anche questo è in corso l'ubicazione che è una innovazione che sta per essere portata avanti e sembra che abbia una buona rispondenza all'interno della comunicazione dei podcast per cui il podcast viene geolocalizzato però questi sono servizi che non sono ancora attivi cioè sono in via sperimentale per questo RSS li mette così nelle impostazioni poi se vuoi li devi attivare dunque se tu li attivi che cosa succede se voi li attivate niente io li ho attivati l'ascoltatore ascolterà tranquillamente il podcast il parsing salterà quelle righe che si riferiscono a questi elementi all'interno del feed e tutto funzionerà come prima potete decidere per ogni episodio di pubblicarlo attraverso il vostro canale podcast di YouTube e lo potete fare in due modi o recuperando il feed RSS e collocandolo all'interno di YouTube che da qualche settimana è compatibile con il feed RSS oppure utilizzate questo sistema automatico e per cui il risultato sarà questo signore e signori ladies and gentlemen ecco a voi podcasting per formatori insegnanti nel 2004 Adam Cari è dunque l'inventore quindi che cosa succede succede che l'articolazione in capitoli che abbiamo creato viene utilizzata da RSS per creare un filmato un video e quindi proporlo all'attenzione di YouTube non solo come canale podcast ma anche semplicemente come video perché YouTube lo riconosce vedete come tale dunque avete due opzioni o voi pubblicate il podcast anche dentro YouTube ma rimane un podcast quindi feed RSS e YouTube si presenta come un canale come Spotify e tanti altri oppure tramite RSS fate la stessa identica cosa e in più avete anche un oggetto che viene considerato un vero e proprio video e che quindi potete utilizzare all'interno del canale YouTube senza necessariamente passare dal podcast cioè viene considerato come un video distribuito insieme a tanti altri mentre nella sezione podcast voi avete proprio i podcast consegnati con feed RSS quindi sono entrambe queste possibilità RSS punto com nasce da Alberto Betella e Ben che è un texano sono due soci che hanno creato questa piattaforma ma Alberto Betella è un mio caro amico dal 2005 e Alberto Betella cosa aveva fatto nel 2005 aveva creato la prima piattaforma internazionale libera free totalmente open source per la pubblicazione di podcast ed era una piattaforma incredibile bellissima che io ho conosciuto e ho distribuito ho distribuito e ho aiutato Alberto a distribuirla dovunque gratuite open source adottata poi da centinaia di università in tutto il mondo Alberto non ha mai dimenticato questo progetto ha rimesso in piedi questo RSS però riprendendo lo spirito delle origini e qual è lo spirito delle origini è la centralità del feed RSS l'apertura all'innovazione la completa responsabilità dell'autore di quello che fa e quindi l'autore può vendere pubblicare fare quello che vuole nessuno di RSS imporrà mai una monetizzazione o qualsiasi altra cosa all'autore che resta libero e totalmente proprietario delle sue scelte ma forniscono agli autori delle possibilità di monetizzazione per esempio attraverso il sistema di Apple Podcast oppure per esempio molto interessante questo donazione e finanziamenti poi potete connettervi al sito e guardare le spiegazioni qui è interessante perché l'ascoltatore può ricevere anche il link all'interno del podcast per eventualmente darvi un contributo però nessuna di queste è imposta e tutti i diritti appartengono a voi ed esclusivamente a voi posso dirvi rapidamente che avete delle statistiche interessantissime di geolocalizzazione per esempio sugli ascolti del vostro podcast che arrivano anche e qua vi devo far vedere una cosa incredibile che devo capire com'è io non credo nei fantasmi però arriva anche nel dettaglio della singola strada quindi qui abbiamo un ascoltatore in un cimitero a Segrate e non mi sembra che sia all'interno dell'edificio del guardiano quindi vorrei capire se sto tizio è stato seppellito con il podcast e c'è la trasmissione oppure se di zombie non so di notte si ritrovano per ascoltare il podcast era un episodio particolarmente triste per cui si si adattava al contesto comunque abbiamo un ascoltatore dal cimitero di Segrate non so se rallegrarmi poi avete i dispositivi naturalmente tutte le inchieste questi cambiano molto da podcast a podcast da trasmissione a trasmissione però possono essere utili naturalmente poi avete le quantità di ascolti totali vedete qua per esempio 850 ascolti gli ultimi 19 30 giorni quasi 20.000 insomma avete tutta una serie di anche questo ecco questo mi ha aiutato anche a ridefinire gli orari e le date di pubblicazione di podcast perché questa è la distribuzione degli ascolti di un certo podcast durante la settimana di un certo